Con Romano Pesavento parliamo dell'incontro che c'è stato ieri in regione a proposito di questa crisi che c'è nel mondo della scuola. Allora noi ieri abbiamo avuto l'incontro con il direttore Bucè, gli assessori regionali Rocisano all'istruzione e l'assessore regionale Antonella Rizzo all'ambiente. In questo incontro abbiamo discusso del problema relativo alla mobilità, in particolar modo quello che riguarda la classe di concorso 019, discipline giuridiche economiche. In particolar modo ci troviamo in una situazione in cui i dati dati che sono anche quelli relativi alla Calabria, in cui abbiamo situazioni di spopolamento, quindi caro demografico, abbiamo forti esuberi territoriali e anche il mancato pensionamento dei docenti che rimangono all'interno del sistema educativo. Naturalmente questo ha causato una riduzione dei numeri a favore di coloro i quali avevano avuto l'assegnazione provvisore all'interno delle province calabresi. In particolar modo dalla visione dei dati abbiamo rilevato che all'interno della provincia di Cotone c'è stato circa 15 famiglie che dovranno abbandonare il territorio e recarsi in altre realtà. Avete trovato una soluzione a tutto questo? Allora diciamo che da parte dal punto di vista della regione Calabria c'è stato anche un comunicato stampa che si impegnava sia gli assessori che lo stesso governatore a porre una soluzione a livello ministeriale. Naturalmente noi rileviamo che il problema vada discusso su tavoli tecnici ministeriali. Grazie. Grazie.